E siamo alla seconda parte del nostro programma, al focus, dicevamo nei titoli, la VNOTES, un acronimo per Vaginal Natural Orifici Transluminal Endoscopic Surgery, che è la chirurgia endoscopica trasluminale dell'orifizio naturale vaginale. Allora Dottor Fasolino, una tecnica proprio recentissima in Italia, la prima difficoltà però è una indubbia ristrettezza dello spazio in cui voi vi trovate ad operare, quindi l'esigenza di utilizzare adeguate camere endoscopiche che accompagnino, assistano la chirurgia transvaginale, è così? Sì, esattamente, è esattamente così. Mi permette, mi hanno innanzitutto di salutare i telespettatori che ci stanno seguendo e di ringraziare te per l'invito su questo argomento interessante perché effettivamente è una novità da un punto di vista chirurgico. La novità è rappresentata dal fatto che vengono utilizzati orifici naturali, quali la vagina, per poter effettuare determinate procedure chirurgiche che hanno essenzialmente sempre il carattere della benignità. Mi riferisco alle patologie benigne dell'utero e alle patologie benigne degli annessi. Giustamente tu dicevi lo spazio vaginale è uno spazio abbastanza ristretto ed è chiaro che in questa dinamica intervengono dei presidi tecnologici che ci permettono non soltanto di modificare, di leggermente allargare il canale vaginale, ma soprattutto di introdurre anidride carbonica attraverso la vagina a bassa pressione che deve permettere di allontanare le ansie intestinali dagli organi che devono essere, che devono avere un trattamento chirurgico. Il tutto, come dicevi tu, coadiuato dalla introduzione di un laparoscopio attraverso sempre la vagina. Questo laparoscopio in effetti permette l'individuazione di vedere, analizzare tutte quante le strutture che sono a livello addominale. Sì, ecco l'isterectomia, l'asportazione dell'utero che poi è forse con gli annessi e la chirurgia forse più praticata in questo momento con la tecnica o la VNODES, però si presume che sia estensibile anche ad altre patologie o ad altri, come dire, altri interventi per i quali oggi si adotta sempre la tecnica classica, quella per via laparoscopi, cioè per via addominale con le incisioni. Quali sono queste altre eventuali patologie benigne, come giustamente lei diceva, che si possono fare attraverso questo accesso vaginale che oggi è poco usato ma che negli Stati Uniti già si usa ormai da diversi anni, ma che dovrà, credo, farsi largo o no? O lei pensa che quell'addominale resterà la tecnica sempre più usata? No, l'obiettivo è quello di ridurre quanto più è possibile la chirurgia per via addominale. In altri termini è impensabile ora sottoporre una paziente per una cisti ovarica diagnosticata beniglia, è impensabile sottoporre una paziente a una chirurgia addominale. Che è invasiva ovviamente. Esatto, considerata la invasività, considerata la degenza più lunga che ci deve essere. Io mi vorrei soffermare un attimo sull'immagine, perché questa è un'immagine saliente, importante, che fa vedere come è possibile per via vaginale ottenere l'asportazione dell'utero. Si utilizzano delle apparecchiature, dei sistemi di coagulazione e di taglio che sono di una precisione inaudita. La patologia che viene più comunemente trattata è la patologia uterina, ritornando alla domanda, però si sta cercando di utilizzare questa tecnica, quindi orificio vaginale come ingresso, questa tecnica nella patologia beniglia uterina, vale a dire fibromi uterini, nella patologia beniglia ovarica, vale a dire cisti ovarica. Il futuro credo che sarà assolutamente questo. La tecnica alla quale i medici, i chirurgi dovranno essere formati. Dove ci si forma oggi il dottor Fasolino, Antonio? Noi abbiamo fatto un training, io personalmente ho fatto un training in Belgio perché è stato portato questo tipo di intervento, è stato portato in Europa dai chirurgi belgi. ci sono due collaboratori, il dottore Miele che collabora con me, che si è formato, ha fatto un corso di preparazione a Pisa, collabora con me anche il dottore Jovieno con la sua esperienza essendo lui stato anche direttore al San Leonardo. Ecco scendiamo un po' nei dettagli mentre continuiamo a vedere delle immagini molto interessanti, tutti fumetti ovviamente perché dato l'orario sensibile abbiamo preferito utilizzare le animazioni ed è stato già complesso trovarle queste animazioni. Ecco scendiamo nei dettagli di questo intervento di isterectomia, sarebbe l'asportazione sempre per patologie benigne dell'utero con la tecnica appunto V-notes. Ecco come si procede, partiamo con le immagini che ci fa vedere Fiori Caso. Allora quello che stiamo vedendo è il tempo vaginale, il tempo vaginale permette attraverso la vagina, questo tempo vaginale permette l'introduzione di quel sistema che è Alexis, la copertura di questo Alexis e qui c'è una piattaforma con tre vie, in ognuna di queste vie viene introdotto uno strumento. Uno è la telecamera che deve permettere la visualizzazione degli organi e l'altro canale permette l'introduzione di queste pinze che servono per la coagulazione e il taglio. Lì, questo una volta finito l'intervento, la piattaforma viene asportata, con delle pinze si asporta l'utero che viene a una, come dire, spieghiamo, l'utero, lei è un maestro di queste cose, è comunque un organo piccolo insomma, però che è molto elastico, molto... Dipende, dipende, l'utero sì, ci sono variazioni di misura perché questo tipo di intervento ha una indicazione anche negli uteri grossi, l'intervento poi termina come abbiamo visto prima con l'asportazione dell'Alexis di questa membrana e poi c'è una normalissima sutura vaginale. Ovviamente quello che stiamo vedendo, rivedendo ancora, è la ripetizione di alcune fasi chirurgiche che abbiamo visto prima. La cosa importante che mi permette, che è necessario sottolineare, è che per effettuare questo intervento c'è bisogno di una combinazione di conoscenza tra la via vaginale e la via laparoscopica, perché queste vie combinate permettono di portare a termine questo tipo di intervento per il trattamento, ripeto, fino ad ora delle patologie beniglie della... Sì, perché quella, diciamo, quella sacchetta che si infila, in effetti è come se simulasse la laparoscopia, perché ci sono i tre... Sì, permette di isolare... Però l'accesso è sempre quello vaginale. L'accesso è sempre quello vaginale. Niente incisioni, niente cicatrici. Non ci sono incisioni, non ci sono cicatrici. La paziente ha una posizione normale, ginecologica. Ginecologica. C'è una leggera... Quale anestesia si usa, dottor? Generale. Generale. Sì, viene effettuata anestesia generale. Però ho letto che si potrebbe anche... Si potrebbe anche utilizzare un'anestesia spinale. Devo dire che nell'ultimo intervento che abbiamo fatto l'altro ieri, abbiamo iniziato l'intervento con l'anestesia spinale, però ci sono state delle problematiche relative alle condizioni della paziente, per cui l'anestesista giustamente ha modificato il suo atteggiamento. Dipende dalla persona, insomma. Dipende dalla sua emotività, dalla sua carica ansiosa. Certo, ogni intervento ha la sua storia. Non può essere generalizzato. Quanto dura questo intervento? A parte la fase di preparazione, l'intervento in sé dura sui 40-45 minuti, i tempi si allungano perché in effetti la preparazione richiede un setup particolare, il personale di sala operatoria deve essere formato per questo tipo di chirurgia, anche se devo dire che un altro aspetto importante di questo tipo di chirurgia è l'assoluta ergonomia. Cioè in effetti il chirurgo lavora seduto, lavora seduto davanti il sistema chirurgico e poi un poco a poco, leggermente in alto, c'è la telecamera, c'è il monitor. E' come la laparoscopia si sta in piedi. In laparoscopia si sta in piedi con un grande disagio per l'operatore, per l'aiuto dell'operatore l'unico che sta seduto è il chirurgo che è tra le gambe della paziente. Ecco, analizziamo un po' tutti poi alla fine i vantaggi di questa tecnica V-Notes. per la paziente, indubbiamente il primo destinatario, le vantaggi è lei, la signora donna, ma anche per la struttura, la struttura sanitaria, anche vantaggi per il sistema sanitario e per il sistema socio-economico, perché quando c'è un giorno di reggenza, perché parliamo un po' della reggenza e del ritorno alla vita normale, che tempi ci sono? I vantaggi, in effetti, la paziente non ha cicatrici, la paziente ha una sintomatologia dolorosa post intervento chirurgico quasi nulla. La paziente riprende la sua attività due giorni dopo, dimettiamo in genere il giorno dopo o dopo due giorni. La paziente può tranquillamente riprendere e riprende la sua attività. Il materiale che viene utilizzato è materiale, è materiale disposable, però solo per quanto riguarda la piattaforma, perché poi la strumentazione, le pinze che vengono utilizzate per la coagulazione, per la prensione, è materiale questo riusabile. Riusabile, sterilizzato, riusabile. Esatto, quindi in effetti i costi per la struttura sono dei costi che sono legati a una procedura normale. È chiaro che più interventi vengono fatti, più ovviamente vengono abbassati i costi che non sono dissimili da quelli di una procedura normale laparoscopica. Ecco, vantaggi, risparmi insomma, risparmi di disagi, di sofferenze per la paziente che non ne ha quasi nulla, ma risparmi anche per il sistema, il sistema in genere, il sistema socio-economico perché abbiamo detto la paziente dopo qualche giorno riprende la sua attività lavorativa, insomma, in ufficio, a scuola, non lo so, o altre attività. Sì, può riprendere tranquillamente la sua attività, la sua attività normale. E il follow-up, cioè c'è un ritorno dal medico, dal chirurgo per un controllo? In genere un controllo viene fatto a distanza di 7-10 giorni dalla dimissione ed è un controllo rutinario, non ha particolari esigenze questo tipo di controllo, questo tipo di follow-up. E tutto questo, dottor Fasorino, accade, guarda caso, guarda che coincidenza, con l'inaugurazione della nuova sede della clinica del solo, dove lei lavora adesso, dopo essere stato primario per tanti anni, per molti anni alla ginecologia Ruggi, a Salerno, che si inagola quindi proprio oggi, qui vediamo la ex cirte di Via dei Greci a Fratte, trasformata in una casa di cure, in una clinica con la sua caratteristica di essere orizzontale, cioè non ha, cioè non si useranno ascensori in questa... Sì, non ci sono dislivelli. Sì, un po' come al Moscati di Avellino, la orizzontalizzata della struttura. Questo comporterà sicuramente dei vantaggi, insomma, qualche svantaggio nel senso che si dovrà usare più personale, probabilmente. Ma i vantaggi sono rappresentati dal fatto che ogni posto viene facilmente raggiunto. raggiunto, porteremo tranquillamente nella clinica nuova tutto quello che abbiamo fatto finora nella vecchia sede, in più c'è da sottolineare che ci sarà un potenziamento tecnologico in rapporto a tutto ciò che di modificato c'è stato da un punto di vista proprio tecnologico per effettuare questo ed altri tipi di interventi.